Dunque l'Escano si è sfogato, ora però dipenderà solo da lui, sarebbe stato meglio il silenzio, ma tant'è. La rabbia ci sta, anzi ci deve essere, poi però bisogna far parlare i fatti. Nello sport, in generale, nella vita è sempre così. Anche perché i fatti dicono che l'Escano non segna sua azione dallo scorso 30 ottobre, trasferta di Castellamare di Stabia. E nelle ultime sette partite, in cui è vero ha giocato meno, ma per un palese calo di condizione, è andato a bersaglio una sola volta su calcio di rigore. Con tutto il rispetto, l'Escano, a ragione titolarissimo nelle prime 12 giornate, non può rappresentare un problema. Anche perché le spine oggi sono altre. Non c'entra nulla la perdita di autostima. La vittoria di Monopoli dello scorso 11 dicembre ha prodotto questo effetto? Non scherziamo. In realtà il Pescara sta giocando male e l'involuzione è soprattutto tecnica. La proposta di gioco non è più all'altezza, soprattutto i Biancazzurri non tirano in porta. Un paio di conclusioni, non di più, nelle ultime tre uscite casalinghe. Semmai l'aspetto psicologico è conseguenziale, non può essere la causa scatenante. Tutto quello che è stato fatto in precedenza resta, ci mancherebbe, ma servirà da subito una decisa inversione di rotta. Venerdì si chiude nel 2022 ad Avellino. Oltre ai vari plizzari Palmiero e Pellacani resterà ai margini anche Craia. Per l'italo-albanese lieve stiramento alla quadricipite della coscia sinistra e dieci giorni di stop. Assai probabile la conferma in blocco dell'undici schierato col Picerno. Davanti fiducia a Vergani, supportato ai lati da Cupone e De Sogus. Avellino in ritardo rispetto alle previsioni della vigilia, ma in netta ripresa. Cinque risultati utili di fila, tre vittorie, due pareggi. In questo lasso di tempo un solo gol incassato. Rastelli, subentrato Taurino a partire dalla decima giornata. Tra l'altro un gradito ritorno. Sembra aver rivitalizzato il team Mirpino, conferendo solidità e organizzazione.